Come hai detto, partire da un testo è un grande vantaggio per alcuni versi e un'insidia per altri, perché si ha il grande vantaggio di avere un racconto che qualcuno ha già pensato prima di te, per cui ha già riflettuto sui personaggi e quindi te lo fornisce quasi pronto. In verità poi nel momento in cui si decide di fare un adattamento per lo schermo il racconto pone tanti problemi perché non sempre la parola scritta obbedisce alle stesse regole a cui obbedisce un'immagine cinematografica e quindi inevitabilmente pur forzandosi alla fedeltà, che è un atto dovuto perché altrimenti non si sceglierebbe un libro ma si partirebbe da un soggetto originale, è importante rispettare appunto il racconto. Le cose di cui lei parla, cioè la voce narrante, lo sguardo in macchina c'erano già nel racconto, era un'occasione straordinaria a cui non si poteva sicuramente rinunciare. Io credo che Bellas Mariposas, ma non per merito mio, abbia forse una delle più belle voce fuori campo proprio perché la voce che si usa in film è mutuata dal racconto, però il racconto ad esempio si presenta come un'operazione ardita dal punto di vista linguistico perché ha i confini quasi con la letteratura sperimentale, non usa la punteggiatura, non usa il dialogo, ogni dialogo è riferito in maniera indiretta, per cui il compito di chi lo adatta è quello di provare a entrare nelle viscere di questo racconto e far sì che poi risponda a una struttura drammaturgica che è quella che poi tiene saldo un film. Da questo punto di vista la scommessa era ardua anche perché il racconto ha una trama esile, ma lieve vorrei dire perché esile ha già una connotazione di un certo tipo e la vera sfida era appunto cercare di conservarne questa sua grande qualità perché io credo che il racconto di Azzeni, mi piace dirlo in questo contesto, sia una delle migliori realizzazioni letterarie di quell'idea che Calvino aveva della leggerezza quando congedandosi ha fatto le 5-6 regole a cui dovrebbe obbedirsi o obbligarsi uno scrittore. Come ho trovato gli attori? Diciamo che mi sono avvicinato a questo racconto con l'atteggiamento quasi di un documentarista, ho lavorato a lungo sul territorio perché io non appartengo per formazione, per cultura e per ragioni di nascita a quell'area geografica che è poi evocata nel racconto, sembrerebbe strano dirlo così perché stiamo parlando in fondo di 150 km di distanza ma sono due mondi diversi che per molto tempo neanche si sono parlati, qualcuno ha detto che Cagliari per noi sardi dell'interno è quasi il confine con il resto del mondo e con questa idea sono andato a Cagliari e mi sono preparato a raccontare la città dopo che mi ero occupato di un'altra parte della Sardegna. Gli attori li ho trovati così, andando nelle scuole, in alcuni casi insegnandoci, direte per fare un casting bisogna fare gli insegnanti in una scuola. No, l'ho fatto perché mi piaceva entrare nel tessuto stesso del racconto e credo che questo poi alla fine abbia giovato al film perché abbiamo avuto accesso a un luogo altrimenti chiuso che non si fa guardare volentieri. Il cinema non mi ha mai garantito da vivere, quindi io ho sempre anche insegnato e ho usato questa possibilità anche in occasione di Bellas Mariposas andando a insegnare per un anno in due scuole medie della periferia di Cagliari dove ho fatto un corso di educazione all'immagine. Questo mi ha dato la grande possibilità di conoscere quei ragazzi, quell'universo, quel mondo e due anni fa proprio da quell'esperienza è nato un piccolo film che abbiamo portato qui a Venezia che è Tajabon. Alcuni di quei ragazzi, però non è il caso di Sara e di Maia, poi sono anche approdati in questo film. Il lavoro che è stato fatto con loro è un po' simile a quello che facevamo a scuola. Abbiamo provato il testo, quella che poi per noi era diventata la sceneggiatura, come se lo dovessimo mettere in scena in una recita scolastica, lo provavamo nella palestra della scuola stessa e pian piano abbiamo trovato anche la misura per poi affrontarlo. Credo che abbia in un certo senso aiutato molto le due interpreti a lavorare così in progressione, conoscersi e girare anche il film in modo cronologico, proprio perché il film stesso diventasse un'esperienza da vivere giorno per giorno. La Sardegna merita sotto il profilo dell'arte e della cultura, ma anche credo sotto il profilo di un nuovo progetto economico-industriale di avere una spinta di questo genere da parte della nostra regione. Oggi affrontiamo un tema importante, poi io tra l'altro sono anche assessore alla pubblica istruzione, conoscendo la mia realtà della più grande dispersione scolastica in Italia come regione della Sardegna, a vedere un film che tratta anche tematiche che riguardano gli adolescenti, credo che si faccia un buon lavoro e un buon messaggio. In questi ultimi mesi abbiamo varato anche la Fondazione Film Commission e crediamo che luoghi e siti che oggi sono agli onori delle croniche, purtroppo per problemi industriali sociali come il Sulcis possano essere anche dei luoghi che vengano rivalorizzati e rivalutati attraverso queste forme d'arte che noi sponsorizziamo e nelle quali crediamo molto. Faccio il bocca al lupo all'amico Mereu, credo che il suo grande lavoro dovrà essere premiato e la Regione Sardegna starà ancora vicino al cinema in questi momenti difficili, credo anche sotto il profilo economico per l'industria cinematografica.